Iniziare a suonare prima possibile, si inizia a suonare sin da quando si nasce, si esce dalla pancia della mamma e si piange, è una forma di musica perché è un canto in qualche modo disperato o si ride gioiosamente quando si sta nell'acqua con le paperelle. Io consiglio tutti di avere strumenti in casa, piccole percussioni, xilofoni, marimbe, piccoli piani, anche giocattolo perché la natura umana è tutta propensa a rapportarsi alla musica sin dall'inizio della propria vita e peraltro poi sarà un'ottima compagnia per il resto della vita.